Bella ragazzi sono Gigi Youtube, oggi ragazzi siamo qui per un video che appunto non è uscito dalla carriera, però ve lo spiegherò in breve Allora, innanzitutto, partita contro il PSG, ottavi di finale, ritorno Champions League, l'ho fatto 2-2, però siamo passati ugualmente L'altra partita l'abbiamo fatta contro lo Sasuna, 3-1, e poi saranno le nazionali che vedremo nel prossimo episodio E poi appunto questa partita contro lo Sasuna abbiamo vinto 3-1 Quindi ragazzi cercherò di risolvere questo problema, se usciranno gli altri video l'avrò risolto Spero che diciamo questo, diciamo, spero che questo problema si risolva più presto Perché lo spero, e vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto perché Vi dovevo dire solo questo, quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Bella Bella Ciao 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 Ciao